Buona serata a tutti voi. Il mese di novembre inizia all'insegna delle perturbazioni atlantiche. Un nuovo fronte sta per raggiungere il nord-ovest e domani apporterà severo maltempo nelle regioni settentrionali, con il rischio di accumuli davvero notevoli, per poi spostarsi verso sera-notte anche alle regioni centrali. In Abruzzo la mattinata di domani sarà l'insegna del tempo parzialmente nuvoloso, ma con copertura del cielo sempre più evidente e prime precipitazioni che potranno interessare i settori occidentali della regione dalla sera, per poi estendersi anche a quelli adriatici. La ventilazione sarà ancora debole in mattinata, ma dal pomeriggio sera rinforzerà dai quadranti meridionali, non solo sui monti ma anche nelle aree collinari più interne. Il mare da poco mosso diverrà mosso entrosera. Le temperature minime di questa notte comprese tra 9 e 16 gradi e le massime di domani in leggero aumento nei settori adriatici, con valori compresi tra 14 e 23 gradi. L'appuntamento con il meteo è per domani mattina. Buona serata.